Mi raccomando Luca, non possiamo permetterci buchi nell'acqua. Porto via signore? Ma no! I materiali che utilizzo per fare le mie creazioni sono comunque materiali ecosostenibili e sono cruelty free. Viene ammazzata una vita per ottenerli. Io ho sperimentato la creazione di paillette proveniente dai gusci dei molluschi. Da mollusca paillette vengono messi una macchina laser, creato i file per la seratura, quindi della forma della paillette con il buco all'interno e l'abbiamo potuta ricamare. Il risultato finale è questo qui. Quindi abbiamo l'effetto iridescente della paillette. Sì, io sono l'unico che utilizza questa tecnica per creare paillette. Quindi la possiamo dire Made in Italy. Per me il Made in Italy è saper fare, muovere le mani e non fermarsi alla prima ispirazione. Le parole che mi contraddistinguono nel mio lavoro sono sicuramente ricerca, rispetto e anche divertimento. Allora, com'è andata? Giusto qualche buchetto. Ciao! Grazie a tutti.